Come niente è un film tutto marchigiano con una truppe di giovani talenti del territorio girato a giugno nelle zone del sisma tra Camerino, Muccia e Val Fornace. Nel cast l'attore Franco Pini e le giovanissime Valentina Bivona e Greta Mecarelli. La regia del 28enne anconetano Davide Cuomo, la produzione targata Guasco in associazione con Poliarte, Accademia di Belle Arti e Design di Ancona. Il film vuole promuovere il territorio marchigiano e dare un segnale di ripartenza. È un film che racconta la storia di tutti noi, perché è un film che racconta di una famiglia che a causa di una persona, poi nemmeno per colpa sua, a causa della malattia di una persona ha perso il suo equilibrio e per molto tempo non è riuscita a ritrovarlo. E durante il film Franco Pini, che è il nonno con le due protagoniste, che invece sono le due giovani nipoti, inizia questo viaggio alla ricerca dell'equilibrio di questa famiglia, che non ha mai avuto il fatto di accettare la diversità dell'altro, ma forse anche accettare il fatto che si è uguali. Dopo lo spettacolo teatrale dello scorso anno, l'Italia chiamò, l'attore Franco Pini torna di nuovo nelle Marche. È un po' come tornare a casa, c'è qualcosa che mi richiama evidentemente, c'è un segnale che devo saper cogliere. Che effetto le ha fatto girare il film nei luoghi colpiti dal sisma e nelle SAE? Mi ha fatto rabbia, come ho detto prima, che non si possa recuperare in qualche modo la storia del nostro paese. Cioè Camerino, che io ho frequentato in teatro anni scorsi, che è sede di un'università, storica, non può essere abbandonato così. Dobbiamo fare qualcosa in Italia.